Ciao ragazzi e benvenuti in questo video Mi è arrivato ieri un pacco da Amazon Adesso andrò a fare lo spacchettamento Eccole qua ragazzi Queste sono auricolari dell'azienda Blitzwolf Grazie alla Young Creators Italia che mi ha messo in contatto con l'azienda E mi ha dato la possibilità di testare queste cuffie Adesso facciamo passare una settimana e poi vi dirò il risultato Ok ragazzi è passata una settimana e io ho provato gli auricolari Vi devo dire che sono una vera bomba Ovvero che non cadono dall'orecchio Guardate Hanno un ottimo sound Essendo bluetooth hanno il suo Porta auricolari e ricaricatore Eccolo qua E dentro trovate anche il suo cavo Quindi ragazzi se volete prendere degli auricolari Prendete quelli della Blitzwolf Ve li consiglio Prova superata Grazie a tutti Grazie a tutti